adesso c'è l'audio buonasera a tutti ragazzi come state non sentivo l'audio perché forse non era attivato come state tutto bene ditemi se sentite bene la mia voce se devo abbassarmi perché mi sembra che sia sia clippando abbastanza quindi andiamo a sistemare subito la mia voce allora orca miseria e quanto è altro quanto può essere alto questo game e poi sapete cos'è l'assistente fabrizio oggi si capisce perché oggi oggi sia così alto e normalmente no va bene allora adesso adesso dobbiamo andare bene giusto ditemi se tutto a posto la base si sente tutto quanto si sente e niente ditemi com'è l'audio raga non è a posto non va bene audio schifo cosa è successo perché c'è l'audio schifo fatemi capire a ok ho capito un po meglio così ditemi se è un po meglio così perché qua c'è c'è lo schifo non si capisce per quale motivo motivo ok ok perfetto devo alzare quindi devo alzare filtri andiamo su 18 e dovrebbe esserci ok adesso dovremmo esserci ok va bene e niente sarà sputtanato la scheda audio grazie senti pacemaker per la sub quindi era un pitch down più basso non si sa perché ogni tanto sminca il microfono e mi piccia in basso la voce bene ragazzi allora siamo già 236 siccome l'intervista è bella è bella lunga è bella lunga io direi che possiamo andare a vedere e andare ad ascoltare quindi cambiamo la scena ok guarda ce l'ho già tutta pronta ho già qua pronto il dottor montemagno se faccio così attacco il mio audio del volume che ho qui perfetto alzo un pochettino per chi volesse subarsi è pregato di farlo così supporta il canale supporta anche le live che stiamo facendo sul canale perché è molto importante per noi così ci fate vedere che ci volete bene e ci fate vedere che vi piacciono continuare queste live che cerchiamo di portarvi il meglio possibile da settimana prossima dovrebbero cominciare le live trash il pomeriggio le live dei dischi buonasera leonardo grazie per la sub le live dei dischi soprattutto e cerchiamo di fare anche una sorta di spunti di riflessioni sulle cose che dice tedua che di solito ogni volta grazie a red rion tutte le volte che tedua parla e si espone dice sempre delle grandi verità molta gente non le capisce molta gente le fa diventare meme ma poi in realtà lui è uno che in realtà ne sa davvero di cultura e anche se magari ogni tanto sbaglia sai la parola e quello che vuoi o il verbo che tutti quanti sbagliamo verbi e parole in realtà è molto interessante nei suoi concetti soprattutto l'altro giorno lo trovate ancora su twitch la potete trovare ancora su twitch abbiamo appunto fatto la live dove abbiamo ascoltato il grazie dottor mandolino buonasera come fate forse ho detto male non portavi AOC mi tape l'ho portato settimana scorsa cioè due giorni fa lo trovi lo trovi sul canale lo trovi sul canale nel ci sono ho fatto proprio le playlist allora senza non perdiamo tempo so che vuoi farlo con me appunto sul tormento raga perché si fosse persa la live di questo pomeriggio con maria mirage io vi consiglio di andarla recuperare perché uno ha suonato in live e due vedete come saranno impostate le prossime live che di solito faremo il giovedì e il martedì importantissimo ci saranno in linea 77 la settimana prossima quindi non perdetevelo poi ci sarà taxi b la fishball poi ci saranno massimo pericolo speranza mike i snob che parlerà del disco nuovo insomma abbiamo un bel carnet di ospiti che verranno a trovarci e anche quel minchia di junior kelly che ce lo succhiamo no in realtà ci vogliamo un sacco di bene a junior kelly allora iniziamo subito metto il ritorno giù in scena ok e io direi cominciamo a ascoltare questo fantastico nuova intervista di montemagno comunque tedua già dei capelli improponibili direi ma cos'è sta roba qua raga vabbè lasciamo perdere i capelli ma cos'è gli anni 90 siamo tornati veramente negli anni 90 raga ingrandisci un pochetto la cam guardando quanto la pelatona del montemagno vabbè adesso ci prova a ingrandire la cam non vi assicuro niente ci provo prima di partire provo ad ingrandire la cam come to my life ecco qua e invece non ho ingrandito una bella minchia ho ingrandito soltanto la faccia di cazzo attengo ecco qua ecco qua adesso un grosso come montemagno però e ve lo dico da allora via l'audio in background e cominciamo subito questa cosa poi ho visto lui sta cavalcando questa parte un po quale sociale cioè le cause sociali e se arriva fai video sempre le case popolari la sua community è molto impallato montemagno però c'è questo paradosso che aiutami a capirlo non riesco a capirlo aiutami a capirlo aiutami a capire questo paradosso io gli voglio bene monti credo che sia uno dei miei intervistatori preferiti raga magari uno come lui poi fa il video con l'adidas super visibile marchettosa sì e la gente al posto di dire mi vendo cioè se io facessi un video io montemagno metto sulle adidas la gente dice sì ma c'hai la roba della riboc lo fa lui invece tutti i grandi stones si capito ha fatto com'è che è cambiato questo rapporto no innanzitutto il punto di vista tedua sta in difensiva innanzitutto monti e poi guarda la telecamera che è di là innanzitutto monti tedua rilassati a parte che c'ha dei dei fuso capitalistico piuttosto che consumistico viene a mancare nel nella critica del pubblico odierno ok quindi ci sono meno e le balenciaga e sociologica ed economica e si bada di più al punto di vista della rivalsa cioè nel ventunesimo secolo tu sei partito dal basso mandato il curriculum alla footlooker e ad oggi l'adidas ti fa da sponsor ok quindi questo va chi è questa signora raga io non ho già bevuto uno ho fatto anche un whisky con un culo gigante in primo piano va benissimo per carità però potevano cambiarla prima auguri auguri come fa gli auguri monti 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 io ti voglio un sacco di bene monti ma che cazzo di domanda è ma come puoi come vuoi che possa fargli dei degli auguri un rapper ok io sono purtroppo arrivato in ritardo oggi voglio scusare tutti gli iscritti del canale e sono anche in ritardo a consigliare il regalo di compleanno però sarà un regalo pazzesco comunque quello che diceva da questo c'è questa questione della rivalsa che appunto poi non deve però se sia a cuore il punto di vista sociale si sfociare non riesco a prenderlo sul serio con quei capelli in un abuso di consumismo di realismo e di quant'altro io non voglio neanche mettermi parole in bocca più grosse di me perché penso che comunque sia è forte perché guardate come studia bene le parole si ferma prende fiato riflette su quello che deve dire in modo che non venga interpretata male da nessuno quello che sta per dire perché è molto importante la comunicazione è molto importante studiare quello che stai per dire perché sa benissimo che dall'altra parte dello schermo c'è chi lo sta giudicando e lui in questo momento non vuole farsi giudicare lui vuole tirare fuori il concetto il miglior modo il miglior modo è possibile di tirare fuori un concetto perché arrivi a tutti quanti ormai siamo la conseguenza di potenze maggiori e che noi dobbiamo comunque fare un buon viso a cattivo gioco e ti faccio una piccola citazione è un po come quando accusavano pasolini di di criticare il sistema di che comunque di cui faceva parte del quale lui comunque infatti per poter espandere le proprie poesie comunque fuori fuoco monti entro dico più ampio però lui giustamente diceva è tra tra la morte intellettuale e adesso poi vado anche oltre a quello di ostentare un adidas però c'è la morte intellettuale e dover stare al vostro gioco preferisco stare al vostro gioco rieducando però le persone all'utilizzo della coscienza beh esattamente raga è quello che si dice come al solito è entrare in un circuito e cercare di non distruggerlo ma con la propria forza e cercare di cambiare il circuito e tedua nel suo fare trap nel suo essere drill ha sempre cercato di portare un messaggio vero e proprio mi ricordo nei video forse addirittura di di mogli dove lui a fine video faceva servizi sociali portava il cibo alla mensa cosa che veramente poche persone arrivate a un determinato tipo di status avrebbero fatto utilizzo il sistema la piattaforma visibilità per dare poi i miei messaggi in sostanza io penso esatto ho 47 anni quindi comunque molti sembra molto giovane infatti infatti sì ma non fare il falso modesto inganna va bene che è interessante perché per me questo è michael george cioè non è la giorda di come tes oggi per me capito è re michael che fa il suo giocatore però se io penso all'inizio quando usciva il rapper all'inizio tosto duro era il contro sistema c'è arrivava era pulito non so la sua immagine era io non voglio avere nulla a che fare non sono vero veri sale di la quale era per pensi italiano americano l'americano no 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 magari l'americano all'inizio in realtà poi magari è durata poco questa questo ma però oggi invece fa parte del gioco è bello vedere anche nell'immaginario delle persone vedere che arrivasse il rapper dice io non faccio parte del gioco cosa non vera perché poi per chi un pochettino più giovane ha seguito meglio la wave si rende subito conto che quello che arrivava dall'america era patinato cioè lasciamo perdere i wu tang che venivano da una situazione molto più problematica e oltretutto chi segue le live del dottor pierre la sera conosce un pochettino meglio la storia di wu tang e randy mc bravissimo esatto esatto pierre grazie che stai correggendo in chat io poi voglio anche ricordarvi che dottor pierre tiene la sera adesso dovremo riprendere lezioni sul rap americano raccontato dall'interno la storia del rap americano raccontato dal dottor pierre che fa parte ricorda tutti quanti come membro onorario della zulu nation e ed è molto interessante questa cosa il vedere dal punto di vista di monti che comunque è uno che smart è molto smart di di testa è bello è bello appunto vediamo che sia un'attenzione proprio l'abbigliamento le marche è una è un insieme un pacchetto completo allora come spieghi questo differenza che di percezione mentre sa anche la parte di comunicazione su quello e in realtà tutto questo nasce da di mc da chi doveva intrattenere a disc jockey le persone quindi nasce anche da un'evoluzione della disco music dopodiché essendo facile da realizzare il rap ovviamente devi avere le competenze ma non devi saper suonare strumenti e quant'altro è arrivato ai centi più bassi assolutamente sì dove ai tempi a differenza di oggi ancora di più c'erano delle delle lotte tra classi sociali e delle distinzioni molto molto ampie quindi adesso riassumendo la classe operaia dei ghetti iniziò a rappare e si spostò dalla classe operaia da degli ambienti di intrattenimento a scopo ricreativo a delle vere tematiche sociali una volta combattuto e queste tematiche sociali di rapper si arricchivano e persone come in w e i randi in sé e quant'altro poi raga che succede al microfono ma perché ai tempi voleva dire vestirsi con i brand che giravano tra traceto mi sono abbassato un gruppo quindi anche lì poi cosa succede che il flow dell'artista aveva bisogno di un'espressione stilistica perché la moda quando ero un ragazzino del blocco la vedevo in un certo modo quando poi mi chiamò a sfilare vedendola da dietro le quinte capì non mi avete fatto capire un cazzo di cosa ha detto perché mi avete fatto sistemare il microfono bastardi devo rimandare indietro non mi fate finire tra tre ore e mezza la live per favore vorrei finire la moda del centro e dammi vedere il cazzo di telefilm va bene grazie ho rialzato un po il volume siete delle merde il video l'audio basso te lo guardi a fanculo a casa tua il video o ti alzi il microfono ma che minchia vuoi dai prezzai d'artista l'importanza devo rimandare indietro comunque gli nwa e i randi in sé e quant'altro poi iniziavano anche loro a sponsorizzare marche come adidas ma perché ai tempi voleva dire vestirsi con i brand che giravano tra traccetto medio basso quindi anche lì poi cosa succede che il flow dell'artista aveva bisogno di un'espressione stilistica perché la moda quando ero un ragazzino del blocco la vedevo in un certo modo quando poi mi chiamò dolci gabbana a sfilare vedendo da dietro le quinte capi e apprezzai da artista l'importanza del settore cioè che comunque è appunto artistico quindi l'espressione stilistica si è rivista poi nel nell'ostentare gli outfit e senza contare poi tutto questo mood carnevalesco e quant'altro ad oggi il rap come ieri è lo specchio della società solo che la società ai tempi era più un'espressione stilistica ed era meno un ostentazione certo mentre ad oggi questa importanza che tu a 47 anni riscontri nel nostro mondo e dici ma questi giovani saranno mica un po baccati belli che hanno no è perché lo specchio della società peraltro le ragioni perché il valore anche del brand è giusto è giusto non avevo mai pensato che il valore del brand in quel momento vent'anni fa adidas di vent'anni fa non è adidas di oggi 30 anche ormai 30 anni fa cioè è proprio cambiato anche il valore e anche le le loro collezioni il prezzo d'acquisto prezzo non c'erano capito 300 euro di scarpa non esisteva quel concetto quindi era era diverso quando lo mettevi addosso chiaro chiarissimo che questo è super interessante in effetti perché c'è c'è questa evoluzione l'altra cosa che mi colpisce è l'insieme anche della l'importanza delle mosse ne parlavamo quest'estate anche con la mia dolce metà la coreografia i movimenti fortnite arruola una marea di coreografi per trovare capito le mosse che voglio vedere dove vuole andare arrivare risuonare con centinaia di milioni di persone io adoro monti perché come dire imbeddano nella mossa è come se fosse un ancora rispetto al gioco una volta che c'è la mossa quello sta promuovendo forna e tu stiamo parlando lo stesso linguaggio e nel rap io vedo anche te che c'è un sacco di movimenti che dico dove cazzo se l'hai inventato cioè c'è tutto il lavoro dietro per avere ringrazio fabiola per i 20 euro non ho letto che cosa hai scritto qualcuno mi scrive in chat cosa ha detto fabiola ragazzi perché non ho guardato in tempo stavo dicendo che ovviamente lui sta dicendo tu fai i balletti sono ormai sei anni che diciamo che te tu fai i balletti va bene va bene così e anche dei movimenti che siano unici e ben identificabili giustissimo io sono poi un caso a parte nel senso che io ho praticato molto l'arte dell'arrangiò nel senso che nella vita mi sono arrangiato live sul rap in orario serale sì assolutamente alle 21 e 30 quelle che poi erano le mie indole caratteriali martedì giovedì e domenica in generale mi piace il mondo dello spettacolo ecco do questa giustificazione perché tu hai perfettamente ragione però io ad oggi dopo tre anni di carriera che mi sono stabilizzato un attimo da dallo scossore che mi ha dato la vita no mi metto a studiare mi metto di nuovo in gioco investo su me stesso no molti la pubblicità no mannaggia al cazzo grazie la miglior cosa a livello di imprenditore che possa fare e quindi lezioni di canto quindi imparare bene l'inglese magari un corso di dizione o affinare anche questa cosa è molto interessante te dopo l'aver fatto il successo o comunque essere riuscito ad arrivare fino a dove è arrivato in questo momento ha deciso per quello che sta dicendo di ricominciare a studiare non si sente arrivato ma si sente soltanto a un certo punto del percorso e quindi a un certo punto ricomincia ok? ricomincia le tecniche recitative non sbagliare congiuntivi durante le interviste quello che dicevo prima però è importante perché lui è un ragazzo di strada cioè Monti ride però è importante questa cosa che ha detto perché un ragazzo di strada è stato criticato molto per quello che diceva nelle interviste ok puoi aver studiato quanto vuoi ma chiunque viene la cultura non la misuri per quanto riguarda la dialettica la cultura la misuri per quanto riguarda quello che porti quello che fai e quello che sei corso di ballo ok però ovviamente quello che tu dici si sposa ancora meglio nella società già avviata americana dello spettacolo dove un ragazzo magari anziché perdere tempo nelle periferie seppur questo mi abbia dato una visione del mondo e un certo tono come ai tempi se lo dite i cantatori italiani dedica un po' più di tempo a imparare a suonare uno strumento a ballare insomma io mi sono svegliato tardi però dico sono un caso a parte perché ho avuto la fortuna con la mia energia di compensare ed essere bravo agli occhi delle persone per lo più in gamba e senza fare il passo più lungo che mi fa inciampare però ecco chi studia veramente in ogni singolo settore dell'edizione del teatro del ballo del canto vede in me più energia che tecnica certo e anche magari un potenziale nato nella scrittura però ecco io insomma Marco voglio di studiare poi sono cresciuto senza ballo wow raga fermi io Marco ho voglia di studiare ma quando cazzo mai avete sentito ultimamente qualcuno che vi parla di cultura e di studiare io non ho ancora sentito nessuno di quelli arrivati a un certo punto che dice ho voglia di studiare cioè guardate che questo è importantissimo il messaggio che sta facendo passare in questo momento è va bene ho fatto quello che devo fare ma in questo momento ho bisogno di parlare ho bisogno di studiare ho bisogno di imparare da me ho bisogno di ricominciare ad avere una cultura una mia cultura perché ok mi sono fermato per questi tre anni magari ho vissuto nella bambagia ho vissuto nel nel vipaio in questi tre anni ma ora ho bisogno di ricominciare a studiare e raga non è un messaggio a cazzo è un messaggio che nell'hip hop c'è sempre stato lo studia si Enzo Dong ok va bene ma infatti sono fratellini raga parliamo sempre di un un genere l'hip hop che parla di cult l'hip hop scusate il genere rap l'hip hop è una cultura la cultura l'hip hop ha sempre da dove viene Tedua ha sempre insegnato lo studiare la cultura le culture e soprattutto essere sempre in grado di affrontare determinate situazioni padre guardo le interviste prima di venire qua ho visto anziché le tue interviste ho visto l'intervista a Marco Montemagno e cosa intendo dire io ho una gran voglia di imparare dagli adulti e sono una scuola bravo questo è un grande tratto caratteriale io lo vedo intervistando una marea di gente da vent'anni insomma in tutti i settori io sono più mondo tech e business vale coppo ma in realtà tu dici ho detto Enzo Dong ma stavo scherzando in realtà non è non è proprio così perché Enzo Dong in tutto quello che fa fa passare dei messaggi fighi a parte quando fa il cazzone che io mi taglio a vedere le storie e sono mi piego per terra ma Enzo Dong è proprio quello è una persona che è divertente ma fa passare il messaggio dell'uscire da determinate situazioni business però in tanti settori alla fine ti capita di spaziare e ogni volta mi viene in mente l'ultima persona Serena Autieri che ha la voce è una voce pazzesca è un'attrice bravissima è quella che fa Frozen cioè è la voce che canta Frozen nel film per l'Italia e quando l'ho visto l'ultima volta ho detto cacchio però adesso devo migliorare sono appena andata dalla mia vocal coach ho detto Serena ma c'è una voce che è incredibile no no invece come dire sei sempre alla ricerca del miglioramento continuo d'altro canto l'autocritica è fondamentale è fondamentale esatto però sai cosa quando vai in off topic sei fantastico mio figlio ma lui mi manda sempre due messaggi ha due tipologie di messaggi senza Iari io praticamente sarei perso perché mi indica sempre persone interessanti trend interessanti e ha due tipologie di messaggi che mi manda prima tipologia è ma hai visto punto interrogativo e questo è un messaggio è ok che prendo come dire in considerazione ci vado a dare un'occhiata così poi ha la seconda tipologia di messaggio che è ovviamente nome della persona quando lui scrive ovviamente come ha fatto nel tuo caso mi ha scritto ovviamente tedua mi arriva un messaggio su whatsapp ragazzi aspettate un attimo mi sono perso qualcosa però ovviamente io ho un senso critico inevitabile giusto però la cosa non hai gaccetti solo perché sono raccomandati assolutamente non so perché è andato Fedez qualche giorno prima assolutamente anche perché magari una televisioni diverse però quando in genere è così convinto presto grande attenzione mettiamola così perché è il tuo terzo occhio è il mio terzo occhio assolutamente anche perché io non ho il pulso rispetto a alcune generazioni alcuni trend inevitabilmente stai dicendo una cosa bellissima comunque sono andato a vedere e quindi sono andato a studiare non interrompere che già è logorraico perché sai vedo miliardi di persone e quindi a volte sono convinto a volte no appena ho visto ho detto ragazzi fissiamo subito primo mi hai ricordato molto la tua dialettica mi ha colpito moltissimo perché io sono un impallinato di Bergonzoni che non so se non conosco scusa l'ignoranza appena tu inizi a leggere Bergonzoni ti innamorerai perché Bergonzoni adesso c'era 60 anni c'era Bergonzoni e lui è un artista della parola la parola proprio la sviscera la crea la incastra però con significato non è solo un giocogliere non è un contemascetti esatto per cui mi ha colpito questo ed è difficile vedere un'unicità perché spesso tu vedi magari dei reppero gente che esplode che ha anche grande visibilità non c'è niente sotto dicono le solite due parolette è vero è verissimo fine della storia quindi invece mi è molto piaciuta questa roba quindi bene complimenti ma cazzo ha preso molti ha preso dello specchio della società cosa stiamo vedendo come si dice quando la crepa crepato vabbè e gli altri rapper sono l'altro specchio della società capito qua si dice che te due crepato lo specchio per fortuna è grande e non pone stessi riflessi da ogni veduta anche perché tu non hai un'educazione un'istruzione formale voglio citare Dargen D'Amico e Gamon addirittura quella di Dargen è che il mio modo particolare di parlare è solo frutto di una pessima elementare e poi un giorno farò anche io la mia rimona quella serie io ci tengo sempre è anche sinonimo di umiltà il mio andare sempre citare la fonte citare la fonte di chi mi ha stimolato a 16 anni quando cercavo di capirmi ascoltando aspettando Orange County ascoltando aspettando Orange County si sente tantissimo l'inflessione di Dargen sui pezzi di Tedua quella di Gamon è un dono mai gestito di sapere parlare voglio stare di più in mezzo agli adulti in mezzo a quei salotti e a quei bar e appunto imparare l'arte della dialettica del sapere argomentare argomentizzare e anche il dono della sintesi perché è bello infarinare di impastare il discorso ma bisogna saper arrivare adunque io sono cresciuto veramente tra i palazzi e le ville e nel periodo perché poi deve essere molto riassuntivo nel periodo più basso così a livello economico della mia vita sono andato a vivere tre anni a casa di un mio amico i genitori umilissimi la madre figlia di mercanti di formaggi il padre palermitano che si è trasferito da Remsano a 14 anni con il padre meccanico diventato un ingegnere la madre diventata una veterinaria mentre si pagava l'università mentre lavorava cose che ad oggi esistono anche meno se ci rifletti o comunque insomma conosco meno persone che fanno questo tipo di lifestyle piuttosto non vanno più all'università adesso tolto questo mi hanno cresciuto le persone che sono povere che si sono arricchite ma che hanno sempre avuto uno spirito ricco una ricchezza interiore il figlio faceva il classico e stare tre anni lì con il padre ingegnere il figlio che faceva il classico che ad oggi studia medicina il mio miglior amico e quant'altro mi ha dato un'istruzione che è fondamentale per non rimanere tutto fumo e niente arrosto perché se no rimani un ragazzo istintivo che ha energia e che ha anche la voglia di parlare straparlare però potrebbe fare ma perché Monti registra in un bar porca troia che sento le tazzine che mi danno fastidio del qualunquismo di essere prezzapochista essere populista e perciò mi hanno insegnato il metodo scientifico e la luce della ragione che sono due cose fondamentali e io di fatti vorrei dire che in ogni storia da quella che poi ti sei approfondito per i fatti tu nel senso da autodidatta però da ogni storia quanto è più figa questa intervista dove si parla di vita reale che un'intervista dove si parla prettamente del disco del cazzo che non ce ne fette una minchia perché il disco ce lo siamo ascoltato cioè quanto è più bella un'intervista del genere che un'intervista dove e che è anche dinamica poi minchia parlo e mi arrivano le telefonate quella di Billy Elliot a quella di di com'è che si chiama Will Hunting Will Hunting c'è sempre qualcuno dal mondo della borghesia che viene a darti una mano è fondamentale questo è importantissimo perché se no non hai proprio le nozioni non hai proprio le nozioni e difatti la cultura è fondamentale però è anche vero che chi si affossa nella cultura e rimane solo dentro i libri e poi magari sviluppa poca pratica e lì il discorso di Robin che faceva a Will sul saper davvero quale fosse il profumo della cappella Sistina non voglio sapere qual è il profumo della cappella la sensazione di svegliarsi con una donna ed essere felici davvero wow perché noi siamo partiti dalla domanda che ah sì su come parlassi e comunque fu merito di quella famiglia e allora che ti ha dato diciamo la spinta per cominciare a profondare e allora sono in questo equilibrio ho capito tra 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 una bestemmia e una citazione letteraria e devo trovare a 25 anni per arrivare a 30 anni la giusta sintesi esatto peraltro che film Genio Ribelle l'abbiamo visto rivisto di recente Monti non c'è fregno a cazzo posso dire l'ultima cosa sì perché non c'è stato cazzo di cosa stai dicendo Monti mi veniva posto l'accusa di voler fare il finto intellettuale o lattezzoso piuttosto che quello insicuro che dovesse dimostrare la grande verità è questa che io sono stato con questi amici e queste persone che poi mi hanno insegnato a parlare così e io parlo così non lo faccio apposta e il concetto poi di Orange County che fu il disco prima di Mogli fu proprio perché io da delle brutte circostanze andai in questa villa in un quartiere con addirittura la sbarra privato che è la pineta di Arenzano e in mezzo ai campi da golf e le villa schiera e le belle ragazze bionde con gli occhi azzurri e quindi creai il mito del mio primo alter ego che fu Ryan Edwood e in seguito quello di Mogli e adesso capiremo il terzo ok il terzo se vado avanti così finirò per fare il cappellaio matto bello capire prego ti lascio parlare il cappellino sai che io ho passato tipo vent'anni della mia vita finale vigore andavo in vacanza fino alle Ligure io ho fatto io sono di Cogoletto però ho fatto l'alberghiero di finale Ligure ma dai veramente nasco a Genova aspetta no una bomba notizia bomba cosa sei andato a puttana anche tu a Cogoletto come ho fatto io ho detto anche fino al Bronx io andavo d'estate poi il giorno ve la racconto questa storia cosa che dico in ogni chiacchierata perché è fondamentale per la mia sentenza praticamente andavo a allenarmi d'estate andavo in vacanza lì e mi allenavo e mi davano la palestra davvero Monti quindi andavo a allenarmi mettevo il tavolo a ping pong nella palestra dell'alberghiero e ad agosto mi allenavo lì doveva infilarcelo il ping pong da qualche parte Monti ti faccio il sunto per anche magari il tuo pubblico che non mi conosce io nasco a Genova scuola materna elementare due anni di media a Milano dalla terza media fino ai vent'anni ritorno a Genova e dai vent'anni ad oggi 25 sono milanese quindi sono un bel meticcio esatto un bel bel meticcio la cosa assurda è che ti vengono a dire sai no nei modi di dire ma tu non sei le carne né pesce perché alla fine sono rimasto nella carne lombarda nel pesce ligure e per me tra lui e Monti oggi non so come finirà si sparano dalla città di Los Angeles da divagare per me è la stessa città di fatti la chiamo Geni capito anche perché se scanni famagosta a Renzano la fai in un'ora e cinque minuti però vabbè non voglio no non do no senti male le persone andare veloce ci manca sono accorto senti a proposito del linguaggio Iari mi ha fatto scaricare quest'app Genius perché ad un certo punto ho sentito un paio di tue canzoni e ho detto guarda a volte non capisco proprio cosa dice le parole i termini cioè non riesco a capire il significato o magari è un gergo che a me non dice niente ma invece è qualcosa e allora ho visto quest'app dove invece uno può andare lì c'è il testo e in più ti dice ok il significato a volte purtroppo però sono sbagliati infatti devo contattare Genius per fare tutte le correzioni però la maggior parte sono si ma stai tranquillo cioè puoi anche girlo senza incazzarti è proprio un gergo e una cosa che mi ha divertito è che tra giocatori di ping pong si parla in gorge cioè da sempre si parla al contrario a rio contra a rio contra e quindi tu minora le menta mai scambiare il torcio per l'intorcio cioè noi parliamo così qua ci sono due persone che lavorano con me che giocano a ping pong e si parla a rio contra e si parla a rio contra ciao a Titu allora ciao a Titu e per cui la cosa incredibile è poi vedere come quello che noi abbiamo sempre considerato una roba nostra di nicchia poi la ritrovi capito in altri settori e viene fuori io so che a Parigi lo chiamano Verlaine ok quindi già hai dato una cacata io li voglio bene io poi lo prendo in giro però io lo adoro è uno dei miei intervistatori preferiti dobbiamo andare a prendere la Nagra la Nagra la Nagra non è Comar Corma perché la consonante si mette davanti con l'apostrofo e le doppie invece si annullano fatti Matto e Toma non Tomat Toma perché il Gorge non è una scienza esatta esatto ragazzi che cazzo stanno parlando in realtà io vorrei solo parlare di Gorge adesso senti spaziano sull'altro argomento e poi invece torno sulla sulla musica Pugilato tu hai fatto tre anni di più di Pugilato diciamo come agonistica 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 tre anni giusto io questo è un altro tratto io ho fatto Pugilato quando facevo ping pong ho sempre visto che persone che hanno fatto un'attività agonistica nello sport poi hanno maturato fuori facendo altre cose comunque un livello di concentrazione di determinazione di impegno di capacità di a comando dire ok adesso mi metto e faccio questa cosa e per cui secondo me è sempre un indice molto interessante se arriva una persona è disciplina disciplina e bastava dire così disciplina dall'inizio impegno risultato insomma è qualche cosa che poi determina il carattere di una persona tantissimo di fatti lo sport così come cosa si è perso le donne la cultura sono le cose più importanti che abbiamo di tornare sul ring a sfidare lomachenko ho visto sono in tripa perché sto lomachenko che non lo so forse fare degli incontri io e Tony che è un mio collega un domani più concerto riempire un palazzetto però sarebbe una bella responsabilità veramente figa lì è il business alla negregor pazzesco se Tedua combattesse non vorresti vederlo ti darei il posto di prima fila arrivo e faccio capito sette tecniche che Tedua può utilizzare per sconfiggere Fabri Fibra non lo so capito perché l'incontro tra Tedua ha funzionato su web l'incontro da 720 milioni di dollari pensa peraltro quando hanno fatto Logan Paul e KSI KSI giù è venuto ad allenarsi a Brighton perché a Brighton davanti a casa mia vive Chris Eubank Jr che è un pugile famoso ed è venuto a farsi allenare questo KSI è venuto a fare sparring diciamo a farsi spiegare come combattere perché KSI non fa il pugile e allora lui era partito tipo un po' alla Floyd Mayweather con tutte le mossette e questo Chris Eubank ha detto ascolta non ci siamo capiti le basi capito però è qualche cosa però lui si era ripreso perché sapevo che dopo è il ragazzo del Giappone che era andato nel no allora Floyd Mayweather ha fatto l'incontro con i giapponenti che faceva è benissimo per carità è benissimo che parli di cazzi loro perché è salito su e Floyd Mayweather l'ha scherzato ma io mi sono andato a informare perché io ho visto il video mi sembrava così assurda la situazione l'hai visto come era così rideva Floyd Mayweather credevo fosse una cosa tipo WWE perché ha detto non può averlo umiliato così un idolo orientale invece gli ha proprio cagato in testa e ha preso 4 milioni cioè così beh lui se non c'è gli ha cagato in testa se non c'è le dita per i figli dei figli dei figli non si muove ma come è possibile dal ping pong a cagargli in testa Floyd qual è la cosa più interessante di cui sei orgoglioso Floyd ho comprato 7 grattacieli insomma è un personaggio così però adesso fanno il rematch che è il blog a pole che c'è di youtuber poi io non l'analizzo davvero tanto e non sono neanche una persona critica per qualche altre priorità però se ci vogliamo ricollegare al discorso lui comunque ostenta tanto Kim McGregor cioè lui non ha grazie al cazzo cioè magari le ha le competenze ragazzi se volete subbarvi subbatevi che ci aiutate un sacco non critico e cercheremo di portare più contenuti possibili e quindi bravo Xborg bravo Cyborg io una volta appunto mi chiedo dove inizia la rivalsa e dove cioè dove finisce la rivalsa comincia dove comincia il ping pong di cui tutti facciamo parte però non dobbiamo neanche lasciarci logorare perché secondo me adesso risetteremo siamo passati da io non li ho vissuti ma me ne sono fatti raccontare li ho visti poi su YouTube da quei fatidici anni 70, 80, 90 da questo caos del ventunesimo secolo ma la storia è ciclica quindi le persone che hanno dovuto reimparare per esempio il mio settore la musica si sono beccati un po' di banalità negli ultimi 3-4 anni e secondo me ora cresceranno il cambio generazionale arriverà pronto e saturo perché si sarà creato quel malcontento di banalità che poi prende dopo tanto tempo la maggioranza su chi invece in banalità che è tutto quello che diciamo 83 anni a questa parte ed è molto figo probabilmente anche per questo che a livello umano andiamo molto d'accordo con Tedua perché la pensiamo molto allo stesso modo l'unica cosa che lui all'interno di un di un circuito che non gli permette di poter non gli permetteva di poter dire queste cose ne richiede come e si tornerà a fare musica di spessore interviste di spessore televisione di spessore comunicazione di spessore ovvio guarda che ha riassunto il rap degli ultimi due anni in maniera fantastica saturare saturare un mercato e ritrovarsi una delle più grandi fardelli sulle spalle di chi ora ha saturato il mercato che se non si investe sulla scuola pubblica per esempio dubito che allora il nuovo cambio generazionale ci darà quell'upgrade però io confido sempre confido sempre nei giovani più giovani di me e in questo scambio che c'è tra me tra giovane adulto e tra te Iari tra adulto giovane che è fondamentale è fondamentale non è più il dopoguerra ragazzi assolutamente non è più il dopoguerra c'è davvero da imparare da chiunque io penso mio padre mio nonno così era gente dove non c'era mai una vera contaminazione era capito noi siamo questa generazione e voi tendenzialmente siete la generazione si stava meglio quando si stava peggio e voi ecco perché ai nostri tempi saltavamo i fossi per il lungo c'era sempre questo approccio che dopo un po' dice però avete anche un po' rotto i coglioni insomma cioè ci sarà qualche cosa di buono per questo che prima parlavamo di tiktok e se dimetti buono e tiktok nella stessa tiktok e penso che un bel nome comunque è un nome figo e sul mondo del business esploderà però in Italia però se io parlo con qualcuno oggi della mia età dice ma no tiktok è una roba per bambini bim 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 così meglio il ping pong che il tiktok perché c'è subito il pregiudizio cioè non ti fermi a ragionare un attimo grazie Feline però qualcosa una ragazza la Cecilia Cantarano che ho interessato prima farà qualcosa di giusto per fare 3 milioni e mezzo di views facendo dei video comici non stupidi cioè perché non ti fermi un attimo a analizzare quel fenomeno perché devi subito dire non so se giochi a Fortnite allora sei un coglione esatto perché devi demonizzare sempre perché non provi a capire poi ci sono mille aspetti negativi in tutte le cose o positivi però avere quell'umiltà per tutti ma infatti il discorso di demonizzare è errato cioè l'estremismo è sbagliato per esempio Barlo quando fa nei video l'estremista è un personaggio ma sappiamo bene che bisogna analizzare sappiamo bene che un nostro artista su TikTok può fare il milione di view in pochissimo tempo però e sappiamo bene che giocare a Fortnite può portarti tot visualizzazioni sappiamo bene che una piattaforma può essere utilizzata per fare i coglioni e per fare gli stupidi e per fare divertenti è molto interessante anche tutto il discorso tutti di fermarsi a ragionare prima parlavo con un ragazzo cioè si può educare il fruttore come dice Pierre il contenuto è costretto dal fruttore non dall'autore va benissimo ma si può prendere in mano una persona intelligente e io penso anche a Tedua nella musica nella trap che ha portato i contenuti veri nella trap prima che arrivassero i rapper vecchi a scuola a inventarsi di fare trap e portare il contenuto si può fare si si può fare ma devi essere bravo a farlo devi essere veramente forte a farlo Just Mick che è uno youtuber forte fa video di neuroscienze su youtube che è un argomento esatto quello che stavo dicendo io insomma fa divulgazione su questi argomenti e diceva ho letto questa frase come si chiama Just Mick Just Mick e lui dice io faccio ho letto questo libro dove c'era la definizione di scienza definita come scetticismo organizzato cioè la scienza non ti dice la verità arriva a un fatto e poi dice sono scetticamente l'organizzo scetticamente ma sono pronto a sapere che magari poi cambia quella situazione e cambierò cerco la verità non cerco di aver ragione è l'eterno equilibrio tra chi confida troppo nella scienza e perché comunque dà una certa insicurezza pensare che c'è una palla in cielo tutti i giorni quando ci svegliamo e l'infinito è oltre di Buzz Lightyear quindi adesso lasciamo perdere tutti quei discorsi che attivano la valvola di negazione però è l'eterno equilibrio quindi tra confidare troppo nella scienza ed essere persone che poi non si pongono neanche più il dubbio di progredire piuttosto che quello che di imporsi così tanto il dubbio di voler progredire esatto che per assenza di cultura si arriva ad essere tremendamente complottisti certo quando il complottismo secondo me dovrebbe solo esistere in tutti quegli ambienti politici ed economici perché in quei casi dato che si tratta appunto della progressione mondiale è anche bene porsi le pare più assurde e stupide cioè datemi le prove che tutto quello che si possa ipotizzare non sia così è vero perché poi sai anche lì quando vai a parlare di chi arma l'isis e quant'altro mi fermo qui gli argomenti sono migliaia bravo 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 è quello il vero complottismo che bisogna analizzare e neanche farsi ingannare troppo perché poi se no la gente finisce che non vota più in Italia e che non si fa più politica ma la gente già non vota più e non si fa più politica quelli sono dei burattini ai servizi delle potenze bancarie europee io non li voto perché invece no guardate come la sta prendendo larga per dire una cosa vera e ovvia che esiste quelli sono dei burattini e io non voto è quello che pensano la maggior parte degli italiani però lui la butta come per dire vabbè ma poi è geniale per come la sta proprio è fine è fine questa roba che vi sta buttando lì bisogna credere perché come non buttare più la carta nella spazzatura ok ci deve essere un livello di un senso critico e poi una valutazione in realtà ti dico solo che sugli alieni ho la risposta e sull'area 51 ho la risposta certa vai perché ce l'ho quello ce l'ho perché Elon Musk ha fatto che tu parli molto a riguardo tu parli molto e basta famoso fa SpaceX Tesla fa tante cose ha fatto un faccia faccia con Jack Ma che è il fondatore di Alibaba l'uomo più ricco di Cina ok che peraltro ha abbandonato Alibaba facendo un concerto tipo con 80.000 persone immagini questo è un imprenditore vestito da ma stavo ancora pensando che per un accento di troppo avrebbe potuto rendere il suo nome un meme per Alibaba per un'altra scusa che immagini questo lo fa poi ripare praticamente hanno fatto questo incontro pubblico parlando del futuro dei trend dell'intelligenza artificiale e ad un certo punto Elon Musk ha detto parlava di spazio perché loro mandano lui è quello che vuol portare la gente su Marte tutti i razzi che stanno costruendo per andare su Marte e ad un certo punto ha detto perché tra parentesi nell'area 51 non ci sono gli alieni perché se ci fossero io lo saprei cioè lui che capito conosce guardate la espressione di Mario non gliene frega un cazzo ha detto non ci sono vi garantisco l'ucciso abbiamo la sua parola e allora ho detto basta hai chiarito questo dubbio da tanto Bob Lazare disse che c'è la tecnologia aliena non alieni citando citando persone a casa raga infilandoci qualsiasi cosa attenzione perché non ha specificato il dettaglio è vero senti ma da dove parti meno male che hanno tagliato la valvola di negazione ci devo fare te la ruberò e ci farò un video io l'ho rubata a Brescia a quel punto che è il mio conquilino amico da una vita interna non è più il mio conquilino però capito siamo così fratelli che mi ha insegnato lui questo tema è bellissima la valvola di negazione gliel'ha spiegato qualcuno penso mi ha detto che quando l'uomo parla di Dio di religione di alieni si attiva nel sistema neurologico la valvola di negazione cioè è ciò che non ti fa impazzire quando inizi a pensare più di 3-4 secondi che l'universo esiste da sempre ed è in continua espansione quando tu pensi a questo concetto dopo 3-4 secondi o impazzisci o si attiva la valvola di negazione certo neghi esatto e ti ficchi un po' in quel consumismo capitalismo dove ti ficchi un po' come pensare alla morte però il concetto ancora grazie che non sono nato nel medioevo comunque sia o nel periodo di guerra mondiale come fai quando se devi scrivere un pezzo sì da dove parti cioè fai una ricerca una partita più importante per esempio sui vocaboli l'etimologia è qualcosa che invece segui istintivamente ti metti lì e dici ok ti dicono hai un percorso che fai in questo momento che hai strutturato cambia è cambiato è sempre più o meno lo stesso cambia è cambiato è sempre più o meno lo stesso ok credimi credimi stavo per dire voglio dire una cosa di cui non vado fiero io ho letto pochissimi libri nella mia vita pochissimi beh non è che succede finimondo ho ascoltato tanta musica e guardato tanti film e sono stati parlato con tante persone e da bambino ho frequentato tante persone più grandi ogni tanto salta l'audio probabilmente perché c'è qualcuno dietro che bestemmia e lo tagliano di me anche quando avevo 3, 4, 5 anni e ho compensato ho letto i piccoli brividi il piccolo principe che erano quelle cose che trovavo nella biblioteca delle elementari quando ero obbligato a leggere un libro per compito della maestra e ho imparato a raccontare la vita facendo tante relazioni post-gita scolastica certo ora voglio dire questo quindi io sto iniziando adesso a leggere per fare un upgrade per il terzo album certo perché non mi sono ancora giocato la carta della lettura di imparare le parole l'importante per me è sapere più aggettivi possibili quello ti aiuta tantissimo a parlare e descrivere le cose ora ti dico una cosa facile che consiglio a chi vuole fare questo quando si è di fronte a un blocco dello scrittore o non si riesce a esprimere non ci si riesce a esprimere basti pensare che è esattamente esatto il processo mentale è esattamente come quando alle elementari a me è successo penso a tutti la maestra di italiano ti faceva fare la filastrocca quando studiavi per la prima volta le filastrocca e dicevano scrivi una filastrocca una poesia ed è come con la prima prova di quinta superiore del tema c'era che più bravo matematica e che era meno bravo nei temi però tu vedi la traccia e lo devi fare non puoi scappare nella pigrizia o nella mancanza di parole devi argomentare e scrivere allora se tu ti imponi se tu ti imponi cose blocchi la scrittura che è un film in piena e nel mio caso è un flusso di coscienza quindi devi approcciarti istintivamente lasciarti andare ma schematicamente e teoricamente devi affrontarla come una prima prova esatto è un tema scrivi esatto e lo stimolo parte da qualsiasi cosa ma guarda che vi ha spiegato in pochissime parole in modo di scrivere per chi si approccia alla scrittura rap è fighissimo senza darti un limite a scrittura rap o a una poesia piuttosto che a una canzone di qualsiasi tipo o piuttosto che un discorso o un blog o un video è bellissimo non ti dai un limite ti dai un tema ma non devi limitarti poi al massimo limi dopo è molto molto bello è relativo è relativo per persone per me lo stimolo parte dalla vita fare un album all'anno a livello di marketing non mi viene difficile però dopo aver fatto un album nel 2017 e uno nel 2018 ho preso questo 19 appunto per vivere per vivere e crescere migliorarmi affinché quando uscirà il prossimo album senza far passare troppo tempo non posso neanche spogliararti la data però ci sia del contenuto perché deve essere stimolato dalla vita d'altro canto ho scritto i miei primi due album influenzato totalmente dai miei traumi adolescenziali oddio ho un lato scusa c'era prima dell'adolescenza e infanti di infanzia quindi ora scriverò questo album con tutti i miei traumi dai 20 ai 25 anni che potrebbero essere anche interessante c'è bisogno di vita per scrivere di traumi successive sì perché poi in realtà lui ha vissuto in questi tre anni di successo ha vissuto situazioni che magari gli sono piaciute o no ma per quanto ne sappiamo noi è sempre in mezzo alla strada cioè vediamo le storie che pubblica che sono sempre comunque ok a parte alcune storie dove pubblica che sta facendo determinate cose ma è sempre con gli amici sì positivi negativi qualsiasi essi siano è bello perché mi reputo comunque un poeta maledetto e adesso davvero voglia di andare a ripassare tante cose anche dal punto di vista filosofico letterario perché comunque mi capita di pormi gli stessi dubbi o di scrivere cose vicine a quelle che scrissero i filosofi o i grandi autori di un tempo adesso si sta autocelebrando un po' troppo perché però io non lo so ne sono inconsapevole e questa è la cosa più bella perché comunque il genio il genio che io non sono intendo dire l'estro il talento nasce da questo da un'indole caratteriale e da degli stimoli che tu percepisci e non dall'aver studiato e voler emulare quelle cose hai capito? però quando poi arrivi a questo livello se non studi non fai l'upgrade quindi tu puoi essere bravo quanto vuoi a recitare o a fare limitazioni però se poi vuoi arrivare ai livelli di crozza devi studiare o anche quelli di Aldo Giovanni Giacomo assolutamente è un continuo a me piace la teoria di Diokovic dell'1% ovvero scusami praticamente la teoria che è nata peraltro dalla squadra di ciclismo inglese qualche anno fa hanno detto ok come facciamo a migliorare e dobbiamo migliorare un 1% ogni attività cioè ogni immaginati Diokovic 1% meglio come dieta 1% meglio come preparazione atletica ma di che cazzo stai parlando Monti ogni colpa Monti di che cazzo parli complessivo fa un interesse composto che poi crea un grande miglioramento no raga per cui al posto di dire ah no cerco di fare un upgrade ve lo giuro me lo rimango da normale cerco di diventare un fenomeno sono questi piccoli passi che poi ti portano a un progresso continuo insomma questa è un po' l'idea te tu ha per divagarsi iniziata a bere raga raga non capisco un cazzo fatemi bere lasciate parlare Monti lasciatelo parlare ma fatti un blog però è quello il passaggio e dal punto di vista produttivo invece come funziona se tu dici ok allora qua se ne ha accorto ho un testo poi che cosa fai vai in studio registri ah intanto il testo lo creo oh scusa oppure parti ancora vuoi parlare dell'1% musica o da alcune basi si fanno entrambe le cose i testi li scrivo ovunque mi piace tanto scrivere in studio l'altro giorno ho scritto un testo fuori da stazione centrale in macchina con le quattro frecce nell'area dei taxi mentre aspettavo un mio amico col treno in ritardo che sono andato a prendere no no non so che non sta dicendo cose insensate sto dicendo che non me ne fotte un cazzo che è diverso e mi vedevo le perquisizioni degli agenti ai medicanti fuori dalla stazione centrale questo mi ha stimolato un po' come ai vecchi tempi quando prendevo il treno regionale da principe e tornavo a Cogoleto e vivevo varie storie quindi mi piace ancora scrivere in giro e mi piace però andare in studio e io sai cosa faccio improvviso tanto faccio a mandare la base sotto e improvviso 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 poi taglio reincido quello che non va bene e creo la canzone quindi ogni volta quando ti dico cambia è cambiato ed è più o meno sempre lo stesso perché o scrivo a casa o scrivo in giro o scrivo in studio o improvviso e mi faccio il video col cellulare qualora non fossi in studio per ricordare questa è una grande fortuna che ai tempi gli artisti non avevano per ricordarmi la linea melodica piuttosto che il concetto una cosa che faccio in questi periodi in cui sto scrivendo l'album che se no solitamente non faccio è quella di annotarmi ogni singola cosa che esce nelle varie conversazioni tra amici ok se non la perdi almeno ce l'hai lì certo una stupidaggine entri in un locale e il tuo amico ti dice guarda che lei ti guarda allora io ho pensato cavolo una cosa poetica veramente facile e anche stupidina ci guardiamo mentre non ci guardiamo e ce l'hanno detto gli altri poi magari ci sediamo flirtando e c'è spazio per non toccarci ma vogliamo toccarci allora ho notato questa cosa ho detto sul divano c'era spazio per non toccarci ma volevamo toccarci nel locale ci guardiamo mentre non ci guardiamo vabbè ma cos'è ma raga adesso ti faccio vedere guardate quanto era in paranoia quando ha detto non ci guardiamo ma volevamo toccarci nel locale ci guardiamo mentre non ci guardiamo una coppia ragazza e ragazza stai tranquillo amo e ce l'hanno detto gli altri allora se io quel giorno non fossi stato attento me lo sarei dimenticato come un sacco di altre cose che succedono come il detto che ho sentito ieri che voglio ripetere un giorno la canzone che in caso di tempesta com'è che funziona ogni porto ogni porto in tempesta cosa? in tempesta va bene ogni porto adesso vi faccio rivedere la faccia di Monti guardate ogni porto ogni porto in tempesta guardate Monti guardate cazzo ci sono davanti io non si può vedere aspetta mi tolgo un secondo aspetta no 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 aspetta aspetta ecco guardate la faccia di Monti guardate la faccia di cazzo di Monti che non capisce adesso è lui a essere trollato tempesta va bene ogni porto a me è quello che viene sempre sempre in mente è la battutaccia di Grillo che la vita è una tempesta ma prendono in culo un lampo ma non pensa cosa? Monti avevi una cazzo di dignità una volta avevi una dignità non avrei mai pensato guardate mi è esploso che è a cui ti riferirei no no hai letto Robbie Williams ieri come hai letto Robbie Williams hai letto Grillo ieri per venire qua sarò sincero ho guardato Wheel Hunting per stimolare ho detto devo guardare un film per stimolarmi l'intervista va benissimo Tedua va benissimo l'intervista con Marco Montemagno ho scelto quello ma la scena quando Matt Damon siano nel bar Ben Affleck va a bordare la ragazza arriva il tizio a fare il fenomeno e Matt Damon entra e lo stronca lo stronca con la citazione ah si questo l'hai letto a pagina 43 ma va via meraviglioso ma vedi però il film che vibe davano ai giovani cioè vuoi essere un figo studia e devi sapere però fare anche a botte che è un dettaglio comunque no scherzo scherzo ma c'è quel concetto nonostante tu sia un fenomeno alla fine ti innamori e vai e segui quella che è la tua non ci sono più questi film abbiamo bisogno dei registi italiani che riedupino che sviluppino questi ho visto un film che non c'entra niente covilati ma molto carino inglese si chiama Yesterday ok non conosco e praticamente è questo non so se sia già uscito in Italia o se mai uscirà in Italia però è un attore indiano e praticamente l'idea è geniale lui è un cantante che è un cantante è un cantante sfigato fa tutte queste è un film di merda per promuovere nessuno la gente dice guarda è mediocre o bravo nel senso è un mediocre cantante fa le sue canzoncine e proprio non ha successo non c'è un punto fa un incidente non posso mettere in mezzo e si sveglia e il mondo non conosce più i Beatles e lui è l'unico a ricordarsi tutte le canzoni dei Beatles allora inizia ma che bello me l'ho sempre pensato di queste cose no non è bello non lo spoilerò però lui allora inizia a scrivere le canzoni dei Beatles e a cantare le canzoni dei Beatles e il mondo dice ma questo è un fenomeno è un genio e mentre a casa arriva Ed Sheeran che l'ha sentito tipo su YouTube arriva e dice guarda ma tu sei sei un genio sei incredibile ma come fai e dice guarda è un talento naturale e poi c'è un punto c'è una scena ma ti dico è geniale però c'è anche questo ragionamento del il talento è oggettivo cioè basta la canzone dei Beatles per essere famosi oppure no e allora è uno stimo io temo che se ad oggi succedesse una cosa del genere magari non farebbe più successo perché la musica va contestualizzata ed è il motivo per cui non si devono stupire le persone del mio mondo perché devono saper contestualizzare senza contare che c'è anche tanto bigottismo mi sono perso tutto per fare questa minchiata sono stato in Cambogia in Colombia e non sono mai stato andrò tra poco a New York nella Grande Mela andrò in California dico questo perché devo capire in realtà e poi a Brighton devi venire e fare un salto su da me a Brighton ci abbiamo Nick Cave se voglio capire le mie analisi sociologiche quanto noi siamo bigotti e quanto però si siano lasciati andare dall'altra parte perché poi dell'America noi chissà cosa traspare di noi ci arriva sempre un po' quel lato negativo però sarà pieno di persone in America che hanno un pensiero contrastante da quella che è la loro immagine all'estero assolutamente non posso credere perché guarda ti dico loro sono veramente passi avanti con quello che che è il mondo superficiale secondo me ma allo stesso tempo fanno delle interviste come quelle del David Letterman Show fanno dei film incredibili e quindi danno delle dimostrazioni di grossa cultura le persone come Tarantino e quant'altro e allora voglio capire un attimo come convivono questi due questi due mondi questi due mondi opposti che hanno tra sedicenni armati su Instagram nelle periferie e poi c'è i geni nella Silicon Valley che sviluppa di tutto sai che quando parlavi prima dell'improvvisazione mi hai fatto venire in mente che De Niro De Niro sì Robert De Niro quando recita la sua modalità è questa al posto di imparare la parte e poi arriva e recita ma fa la cazzo il padrino che cazzo che è lui le parolacce inizia a dirla e poi grazie la prima ripete fino a che non trova la modalità giusta dice una frase e poi la ridice poi riprova un'altra modalità ci date ancora un po' d'acqua scusate sì perché ci stiamo allappando e quindi è interessante perché nell'improvvisazione nel ripeterlo lui trova la sua dimensione e poi dice ok è questa qua oppure il regista stesso dice Robert fermati questo è fenomenale e ci siamo per cui è una modalità interessante questa è una modalità incredibile che però in cui non ce ne hai fotte un cazzo vero Ted guarda che dietro ai grossi discorsi di Muhammad Ali non penso che ci fosse qualcuno con la palla di pugilato con la palla di tennis con la conversazione a tavolino come se fosse un ospite invitato in qualche dibattito politico in televisione l'hai visto il documentario l'ho visto in aereo il documentario su Muhammad Ali mi ha molto colpito sia perché vabbè lui anche lì bisogna contestualizzare cioè contestualizzare è anche il momento storico insomma tutto però perché ora non lo reggono Muhammad Ali su rete 4 no che va a fare quei discorsi con magari la melonia a fianco non lo regge con Giorgia 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 non sto capito sì sì prima che la sua amica gli dice la sua capacità di di si è bloccato di attaccare l'altro mentalmente smontarlo e fare grazie e fare tutto quanto in rima era incredibile cioè non è che Conor McGregor oggi dice cioè lo rima in conferenza stampa no si insultano e ti lancia il microfono e invece lì era proprio anche come dire ti schiacciava di intelligenza di ed è rimesso all'angolo ancora prima di cominciare linguaggio non verbale pazzesco pazzesco e poi lui diceva sempre I'm the greatest ma ha iniziato a dirlo prima non l'ha detto quando era campione del mondo quindi aveva questa proiezione no perché il concetto filosofico è questo io oggi da Montemagno prometto che farò un terzo album è dietro Berlusconi incredibile fortissimo e diventerò non guardando in camera però lo prometto finalmente un artista che a tal punto da potermi definire tale perché ancora non mi definisco a pieno per rispetto ai grandi artisti ora che l'ho detto non posso più fare figure di merda ecco se esatto perché hai questa promessa è un equilibrio mentale che aveva lì e che abbiamo che penso di avere bipolare tra quando si sente pieno di ego e quando non lo è guarda nei momenti in cui non sarà pieno di ego si ricorderà che ha promesso nei momenti pieno di ego che si spaccherà concetto finissimo e quindi in quei momenti lì si darà forza e ritornerà pieno di ego hai ragione e il paradoso deve essere lucido perché se poi va in giro assolutamente infatti molti la sparano a bomba ma dietro non hanno l'altro posto che è l'umiltà cioè in realtà a momenti lì poi era estremamente umile nel allenarsi prepararsi criticarsi certo ma come quando André traduceva i testi e aveva questa doppia canadesi e disse no che era comunque sinonimo di umiltà il suo voler tradurre perché quando l'artista riconosceva questo poi con Alì non c'entra che non era un autore ma comunque era un autore di cesta tutto quello che c'entrava in questa intervista e riconosce in un periodo di poco stimolo di poca fantasia riconosce l'umiltà di voler allora andare a fare delle collaborazioni oltre ceano e di poter riportare qui l'arte che c'è all'estero traducendo i testi ma parliamo dei tuoi capelli e spero anche quelli all'estero facessero con i tagliari adesso non voglio divagare però insomma ma no non voglio divagare perché non ci siamo spostati al tema principale la non negligenza che è un termine che non conosceva hai capito un mio amico a vent'anni ma un mio amico anzi voglio essere sincero Gali a vent'anni mi disse Mario fai sì che le canne non ti rendano negligente e io non conoscevo il termine negligente e poi ha detto cazzo hai ragione si dopo cinque anni quando hai detto che gli aggettivi sono tutto tu devi sapere gli aggettivi nella vita litighi con un amico non sai che gli vuoi dire che guarda secondo me sei un po' polemico a me quando mi hanno detto che ero egocentrico e logorroico a 15 anni e io non sapevo cosa volessi dire ho detto e poi l'ho capitato a 16 anni ho detto cavolo egocentrico non rimango devo diventare famoso sono cose molto umili portate pazienza non pesterò i piedi a nessuno dire queste cose ma logorroico non va bene devo imparare il dono della sintesi c'è una parola meravigliosa secondo me su cui prima o poi dovresti fare qualcosa che è antifragile antifragile che cazzo vuoi di un autore si chiama Taleb ma che cazzo vuoi non c'è il contrario di fragile adesso fammi un freestyle su antifragile è antifragile è qualcosa che emerge sotto pressione ed è un bel concetto perché poi oggi viene utilizzato spesso antifragile in inglese in Italia hanno tradotto antifragile però è incredibile che una parola possa aprirti sicuramente è sempre meglio da dire fumagali sempre meglio o ti possa ispirare come vivi questo mondo invece della comunicazione online social dove siamo tutti ormai in un qualche modo destinati credo che sia la stessa domanda che ha fatto oggi Barlo a Marian Mirage come ti stai muovendo è un qualche cosa che diciamo hai integrato scheletto sei un merdo nella tua vita quotidiana è un qualcosa che tratti a parte come potremmo parlarne tanto però quanto male io sono arrivato a Cerbo alla fama alla comunicazione pensa che manca dieci minuti sul canale su un altro canale interviste però penso che non ci sia conflitto di interessi sono due settori diversi S Magazine che i tempi era Sto Magazine sono l'artista con più visualizzazioni ah ma dai grande peraltro di che è venuto per quello tra l'altro penso non ci sia conflitto assolutamente avrei tante di quelle battute meglio che mi sto poi mi devi dire chi sono ste gang ogni volta non so mai ma puoi parlare di questo la Montemagno gang è vero la tua squadra l'altro Montemagno double M capito faccio fare anche quei gang signs è vero devo trovare la mia nuova mossa capito sì Marco Montemagno e Tedua gli è salita gli è salita finalmente quindi le gang sono affiliate e Dastor Mancati ne ha fatto più visualizzazioni di cosa stavi parlando Tedua dopo che era la minchiate che erano scappato di casa è bello è piaciuto è l'effetto Tupac è l'effetto Mohamed Ali la gente vuole che io faccia vedere le mie lacune vuole sentire la mia energia che io ho e l'ho fatta vedere però poi devi razionalizzare il personaggio devi crescere appunto se no rimani quel tutto fumo e niente arrosto se vuoi avere la classe io sono un pivellino e quella classe non la farò mai ma se vuoi ammirare solo che ha al 5% della classe di Fabrizio De Andrini di Pasolini di Benigni e di tutte quelle persone che mi hanno stimolato nelle loro interviste ma io faccio il coglione però in realtà sto dicendo roba figa al David Letterman Show devi studiare io sono arrivato a Cerbo arma a doppio taglio ho vinto lo stesso perché si vede che sono simpatico ho comunque la forza se è in gamba c'è la bozza nonostante poi io per autocritica vedo quello che magari altri non vedono infatti preciso anche che io non voglio essere sopravvalutato perché si crea l'hating nei miei confronti perché c'è chi magari a 15 anni o a 25 non ha avuto stimoli nella propria zona di comfort dice oh quel ragazzo è intelligente guarda come parla Mario e allora chi davvero ha studiato ed è intelligente dice ah non sopravvalutatelo come se fosse chissà io non voglio essere né sopravvalutato né sottolta guarda che è molto bello il discorso che sto facendo però da tutto questo si evince la sua paura dell'essere giudicato e mi dispiace un po' perché in realtà chi se ne fotte cioè chi se ne fotte Mario chi se ne fotte porca troia c'hai una cultura di vita che quelli che dicono stai parlando male non ce l'hanno generalmente misattro grazie per i 3 euro sto imparando tuttora perché io sono un artista il mio mestiere è quello di fare musica è il mestiere di chi poi mi deve stare attorno aspetta comunicazione di servizio oggi a mezzanotte dopo la mezzanotte fumo a GC6 per giocare online se volete facciamo la live come ieri notte nascosta giocando a mini golf se volete io faccio dei casini mi va bene che mi vogliono bene così ma faccio dei casini non gravi ma io sono istintivo sono estroverso sono eclettico prendo il cellulare e nei limiti del possibile se devo sfogarmi lo faccio se devo dimostrare anche qualche insicurezza o forte sicurezza lo faccio sì anche io parlo a vostra voce che c'è Federica che dorme quella che è l'industria comunicativa online del genere hip hop e quando sbagliamo ce ne accorgiamo e per fortuna il pubblico soprattutto su Instagram ha la memoria del pesce rosso e finisce lì a meno che non hai fatto delle cose davvero grandi che ha appena detto anche in quel caso mi hanno insegnato che non c'è pubblicità negativa poi io dico che non è vero perché a me la pubblicità cresce se permette non la voglio esatto però quando vedo i PNL che hanno fatto disco di diamante in Francia e non hanno fatto neanche mai un'intervista come mossa di marketing o vedo il percorso di Travis Scott che è un artista americano capisco che non posso neanche piangermi addosso perché loro fanno parte di un'industria che è già avviata e gli hanno insegnato come muoversi e quindi hanno potuto quando erano acerbi vent'anni istintivi già pensare di elaborare la loro mossa strategica di marketing esatto cosa che invece io non ho fatto sono arrivato solo confidando sul talento guardate io sono bravo fatemi andare però il fatto che tu abbia una squadra di persone intorno è quello che ti permetterà anche di avere le persone giuste che seguono la strategia di comunicazione la parte di vendita la parte organizzativa la parte di immagini cioè hai tanti aspetti e poi tu chiaramente sei quello che tira le fila perché sei tu alla fine quello che deve fare la scelta creativa e dare la direzione sei insossato nella portola è quello fondamentale è proprio quello il problema all'inizio che tu vuoi fare tutto e se hai un piede in più scarpe finisci che non fai niente bene quindi quindi è per quello che poi devi affidarti a persone di cui ti fidi per le altre visioni oltre a quella musicale che invece è mia e del mio produttore Chris Nolan è direttore artistico chi sono cantanti che tu stimi in questo momento attivi cantanti che stimo molto chi è che stimi oggi? è passato qualcuno da te la telecamera? stranieri, italiani insomma c'è gente che pensi che no beh a me piace tanto chi? il fenomeno Mahmood ultimo mi piace tanto esatto molto forte questo fenomeno qua che c'è stato a Sanremo poi al di là di chi ha vinto sono diversi compensano due lacune differenti mi hanno messo in difficoltà con questa domanda mi piace tanto mi piace chi sa cantare mi piace chi sa suonare strumenti parlo di cantanti perché poi di colleghi pop avrei paura di dimenticare dei nomi ok scusa e come scena invece? come? cioè quali sono i posti nel mio settore tecnici ok quali sono i più avanti? i genovesi no è il posto dove dal punto di vista della musica si si Genova 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 per me è Genova però la scena più influente è quella di Milano eh purtroppo si e all'estero invece? quella più real è quella di Napoli quella con più cuore quella che mette d'accordo tutti è quella di Roma esatto quella che manca un po' da anni è quella di Torino mamma mia e Bologna mi manca che bella sta cosa l'Italia spacchiamo un po' ovunque a Venezia so caldi a Calabria e invece all'estero quali sono i posti? i Sardegni hanno dimostrato di essere dei colonizzatori della penisia ma e invece all'estero quali sono i posti di riferimento? nel mio mondo tecai Silicon Valley la Cina si si ce li ho Atlanta Chicago e Francia e ultimamente New York si sta difendendo davvero tanto bene poi ti posso dire Philadelphia è da un po' che non sento parlare di Detroit mentre lei la California è semplicemente il luogo è la Milano loro cioè che ha fatto i soldi poi va a vivere lì e scusa quanta influenza c'è oggi sulla su chi fa rap in Italia nei momenti in cui Stati Uniti escono con qualcosa c'è tanta influenza oppure l'Italia ha sviluppato un suo genere che è abbastanza indipendente rispetto a quello che che esce è più così sì 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 lo stiamo per fare ancora tre anni se non facciamo dei passi indietro l'Italia si sta vendendo degli spazi musicali come non ha mai fatto se non con la musica italiana di Ramazzotti Tiziano la Pausini tutto vero eh raga è una bellissima fotografia e molti altri addirittura di Pupo congelato al cioccolato ma quelli sono discorsi che arrivano in Russia o Pavarotti ecco no certo nel nostro settore ma in questo caso Mahmood Mahmood ha scalato le classifiche internazionali vi lascio il nostro canale te penso che sia stato il primo in Italia vero ragazzi no no a fare quei numeri all'estero così no ma ha scalato le classifiche internazionali cantando in italiano eh sì eh sì perché quando c'è allora ecco esatto grande ne parlavo altro giorno il fenomeno Dragostea d'Intei erano rumeno e Dragostea d'Intei però attenzione Mastery Tecno se non facciamo passi indietro ricordo che stanno facendo successo di FSK Mastery Tecno stai attento perché si parla di una cosa totalmente diversa diversa di FSK a livello vabbè sarebbe da fare un discorso molto più interessante però occhio perché non è è sbagliato è sbagliato secondo me è sbagliato quello che stai dicendo c'è da fare un discorso molto più pesante e più importante quando c'è una bella linea melodica un bel timbro in quel caso c'era anche tanto un bel timbro musicale scusami un bel timbro vocale una bella linea melodica una bella produzione musicale la musica funziona qualsiasi sia la lingua inoltre secondo me la musica latina si sta rifacendo molto a livello mondiale gli americani gli inglesi nella loro ignoranza gli italiani e gli spagnoli ci mettono un po' nello stesso calderone quindi l'italiano così pieno di vocali alla fine di ogni parola risulta dolce e stiamo venendo apprezzati inoltre l'america l'italiano si è voluto fare gli americani ma ultimamente l'america vuole fare l'italiano perché si mangia bene perché c'è il settore della moda che è visto dagli artisti mainstream e per le macchine e quindi nel senso ci riconoscono un qualcosa che magari non riconoscono ad altri paesi dell'Europa dell'est c'è anche a dire che l'america guarda veramente tanto l'italia ultimamente però è un discorso arrogante quello che sto per fare ma non è alla fine io mi sento infortunato essere italiano che magari polacco perché c'è un brand made in italy che è visto di valore di qualità in questo secondo me se mi chiedi più forti più vero raga finora vai tranquillo i migliori secondo me seppur l'inglese raggiunga tutti in Europa sono i francesi grazie al pezzo nel settore rap trap hip hop e invece ho visto un po' di tempo fa ho fatto uno studio per la parte di marketing delle band coreane come venivano come uscivano vabbè famosissimi loro il k-pop è tutto un altro discorso sono miliardi poi c'erano le ragazze blu vai non so come cazzo si chiamassero quattro ragazzine che all'inizio dice sì la girl band invece no passavano tutte le selezioni cioè si facevano un mazzo così per tirare fuori le quattro ragazze che poi dovevano andare a fare il tour e facevano dei numeri pazzeschi quindi si fatti in Italia con le lolipop gruppi creati a tavolino con tutta una specie di grosso funnel da cui in pratica partivano da grandi numeri se non le avevano fatte a tavolino no forse c'era un gruppo non ti voglio dire una cazzata la mia totale ignoranza musicale ma credo che Saturnino mi avesse mi avesse detto sì effettivamente cantate di Sex Pistol era costruito perfettamente però dalla Corea esce qualcuno che Corea Cina c'è qualcosa Giappone sì no Giappone ogni fa non mi ricordo chi dei nostri collaborò con un rapper famoso in Giappone e Corea ma in questo Sfera è il più quotato perché ha ricoperto proprio sai io sono io lavoro tanto per l'Italia in Italia e e malgrado ciò arriverò presto a farmi conoscere all'estero Sfera ha lavorato tanto per l'Italia all'estero poi l'abbiamo fatto inconsapevolmente e lui lavorò con un giapponese coreano ma venne contattato pure da un polacco ha lavorato con degli americani Sfera con i polacchi sempre ha collaborato il gruppo di Salmon ha collaborato con J Balvin e sono finiti anche loro se non sbaglio in classifiche internazionali quello sarebbe figo fare qualche collaborazione internazionale con artisti la musica sta vincendo e la linea melodica molto di più esatto perché l'energia che dà la musica adesso vale più del contenuto cioè si può anche non percepire il contenuto e e la musica è bello che sia anche così non può essere sempre un mattone capito? quindi non può essere sempre sociale nasce come ti avevo detto in senso dall'intrattenimento bello comunque l'aver preso il discorso è molto bello è molto bello bellissimo ho apprezzato veramente un sacco per cui esci con nuovo disco e sei concentrato su quello i fan non sanno ancora se uscire a fine anno o all'inizio del prossimo anno io rilascio però in questa e sei concentrato su quello quindi il prossimo progetto è quello far uscire il prossimo sì questa intervista mi dà anche carica per tornare in studio a finire l'album gli FSK arrivano hai dichiarato entro domattina voglio capito le prime grande sei fortissimo è stata una figata alla prossima grazie Iari dalla prossima farò capito la double M grande grandissimo dai grandissimo bellissima bellissima intervista sono stato è molto fica ci sta ci sta raga allora io vi saluto vado a guardarmi per fin se vi è piaciuto questo tipo di contenuto ne porteremo spesso soprattutto nei momenti in cui sono a casa nel caso dopo verso mezzanotte mezzanotte e mezza io e Daniele Fumagis e ancora vivo giochiamo al mini golf ma ci sentiamo più tardi perché adesso devo andare altrimenti mi taglia le palle la mia moglie due paroline conclusive guarda trovo Tedua è proprio stato quello che mi aspettavo lui è una persona che riflette è molto bravo sta diventando un bravissimo comunicatore e raga che cazzo da dire Montemagno io lo amo adesso a parte che lo prezzo in giro tutto il tempo ma perché sapete lo guardo così spesso che mi viene voglia di prendere in giro un po' come un amico ma è niente di cattivo come prendere in giro Mario è niente di cattivo e quindi boh è figo poi vedere i passi da giro ripeto una volta l'ho detto in una reaction Tedua è fierezza cioè vedere un ragazzo giovane che mi piace io che sono un vecchio di merda che mi piace Tedua è assurdo ma nei concetti nella musica nelle idee che ha e quindi boh per me è motivo di fierezza come quando ho visto Salmo che si viva si esibiva a X Factor l'anno scorso l'anno scorso nonostante quelle che possono essere trascorsi nostri è motivo di fierezza io quando vedo questa gente che cresce dal niente riesce a fare qualcosa boh per me è bello al contrario di molta altra gente che non merita di stare dove è quindi raga vi saluto grazie non so anche Bigliardo ma anche il golf vi saluto raga buona buona serata grazie per averci seguito vi voglio bene ciao ci vediamo a domani che esce la reaction con madame se non vi siete vista la live che abbiamo fatto oggi con Maria Mirage riguardatevela perché c'è un pezzo in cui ci sono vari pezzi dove suona in acustico in studio e sentite veramente la bravura di una persona ciao agliù